Salve, oggi tratterò su invito dell'Ampi di Reggio Calabria, un argomento molto delicato e molto importante per tutti noi, la Shoah tra memoria e attualità. Intanto precisiamo meglio che spesso si fa confusione tra il termine olocausto e il termine Shoah. L'olocausto era la pratica dei popoli antichi di offrire una vittima sacrificale alla divinità, ma questo significato sacralizzante non ha niente a che fare con quello che si è verificato nei campi di sterminio d'Europa negli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Shoah invece è il termine giusto perché è un termine ebraico che significa distruzione, perché quella fu una distruzione voluta, pianificata, perpetrata sulla base dell'orrendo concetto della superiorità della razza ariana su altre razze, in particolare sulla razza ebraica, ma anche su tutti gli altri esseri che vengono coinvolti in questa operazione, una distruzione perpetrata dall'uomo contro l'uomo. La giornata della memoria non deve servire solo per ricordare, perché è troppo poco servire per ricordare, servire per ricordare lo sterminio di sei milioni di ebrei, è giusto, come è giusto ricordare il mezzo milione di zingari e i malati, i perseguitati e gli oppositori politici, i diversi, i bambini. Abbiamo certamente il dovere di ricordare ciò che è avvenuto, non lo facciamo per fomentare odio, ma per l'altro importante aspetto di ammonirci vicendevolmente sugli esiti nefasti che l'intolleranza e il razzismo portano con sé. È triste ricordare che dal 1935 al 1945 per le strade d'Europa si aggirò una tribù che potremmo considerare selvaggia e spietata, una tribù che diede la caccia ai bimbi, ai vecchi, ai malati, agli handicappati, ai bambini per bruciare i vini, per allegarli nei fiumi, per avvelenarli con i gas, per seppellirli in enormi fosse comuni. Quello che colpisce è che questa tribù selvaggia non era composta da popoli arretrati, incolti, ma al contrario era un corpo statale scelto, selezionato, superorganizzato, che apparteneva a una nazione come quella germanica, che era stata protagonista della cultura europea degli ultimi secoli e che diede a questa tribù, una specie di copertura morale, una copertura materiale e soprattutto una capacità di perfetta organizzazione per compiere uno scempio orribile e incredibile. Quando si pronunciano certi nomi, quando si visitano certi luoghi come Auschwitz, come Buchenwald, come Mauthausen, non si può fare a meno di pensare ai tanti bambini, troppi bambini annientati, annientati in quei campi che furono degli abissi senza ritorno di un'umanità sprofondata ai suoi più bassi livelli nel corso della storia. Ci furono certamente delle eccezioni, come il campo di Ferramonti, il più grande campo di concentramento italiano che purtroppo per dar seguito alla approvazione delle leggi razziali del 1938, furono organizzati in varie regioni d'Italia. Il più grande fu appunto il campo di Ferramonti, aperto il 20 giugno del 40 nella zona impervia e malarica del comune di Tarsia. Il comandante militare di quel campo fu il maresciallo Gaetano Marrari di Reggio Calabria. Era un semplice maresciallo di pubblica sicurezza, ma mostrò una particolare sensibilità. Vole leggere le cartelle degli internati che avrebbe dovuto sorvegliare come comandante militare. Leggendo quelle cartelle si trovò a fare una considerazione finale. Non c'era uno di quei 1200 internati che avrebbe dovuto sorvegliare, che aveva compiuto un atto illegale, che aveva compiuto un atto criminale, che era colpevole di qualche grosso comportamento irregolare. Fece una considerazione. Come mi devo regolare di fronte a questo esercito di internati innocenti, ingiustamente imprigionati? Cercherò di applicare certamente il regolamento come è mio dovere, però di quel regolamento farò un'interpretazione al massimo estensiva e cercherò di trovare in tutti gli angoli, in tutte le maglie di questo regolamento tutto ciò che mi consentirà di rendere questa prigionia ingiusta almeno la più umana possibile, cosa che si verificò. Ferramonti fu l'unico lager non lager, l'unico dove i bambini e gli anziani non vennero eliminati ma tutelati e assistiti, l'unico dove invece di docce al gas e forni crematori vi fu un solo forno per il pane azimo degli ebrei, consentito alla stessa comunità, chiesto e consentito. L'unico che non conobbe fughe, nonostante i permessi giornalieri per lavoro, furono molto numerosi e questo dimostra che gli internati si resero conto benissimo tutti di avere a che fare con una realtà in cui pur essendo ridotti in condizioni di detenzione non venivano perpetrati atti che potessero portarli a fuggire. Non fu un caso che un ex internato poi divenuto grande dirigente della Stocca di Trieste e finì in una lettera mandata negli anni successivi alla guerra al comandante Marrari, una stella che brillò nel cielo grigio e denso di fumo umano, squarciando la follia dei campi di esterminio. L'ultimo atto, all'atto della vigilia della liberazione del campo, fu quello più pericoloso per la stessa sopravvivenza del maresciallo Marrari. Essendo venuto a sapere che una colonna tedesca era diretta verso Ferramonti per prelevare tutti gli internati e portarli, trasferirli nei campi di concentramento nel centro dell'Europa, eravamo ormai nel settembre del 43, il maresciallo decise un atto. Liberò tutti gli internati, li fece allontanare tutti dal campo, restò lui da solo all'ingresso del campo ad aspettare la colonia tedesca e quando arrivarono, su richiesta del comandante tedesco che si meravigliò di quella situazione di deserto che si trovava davanti, mostrò la bandiera gialla dell'epidemia di colera che aveva fatto hissare e invitò il comandante tedesco a rendersi conto della situazione drammatica dell'epidemia all'interno del campo. Il comandante tedesco si consigliò con i suoi diretti collaboratori e decise di continuare il suo viaggio verso Nord non entrando nel campo. Per questo motivo il maresciallo Marrari ha avuto il riconoscimento di giusto che Israele ha riconosciuto a tutti coloro che hanno aiutato gli ebrei a salvarsi in quegli anni terribili. Un altro esempio in positivo fu il comportamento dei carabinieri italiani. Fin dalla battaglia di Porto San Paolo del 8-9-10 settembre essi si schierarono in difesa del popolo nonostante la fuga del re Badoglio e dei suoi ministri e nonostante che fossero stati lasciati senza ordini i carabinieri si auto-organizzarono assieme ad altri corpi tra cui i carabinieri di Sardegna e resistettero alle soverchianti forze germaniche per circa tre giorni dando inizio alla guerra di resistenza italiana. Pagarono molto col sangue questa loro posizione che significò comunque un mantenimento del giuramento di fedeltà al re in quanto capo dello Stato e al popolo che dovevano certamente servire e quindi in tutti i sensi e in tutti i modi cercarono di evitare di essere coinvolti in quella che fu la politica soprattutto dei rastrellamenti e si immolarono più volte a cominciare il 23 settembre da salvo d'acquisto vice brigadiere napoletano che salvò la vita di 23 cittadini che erano stati arrestati a caso come responsabili di un'esplosione in cui non centravano assolutamente nulla. Si dichiarò colpevole di questa esplosione e salvò la vita dei 23 che erano stati già condannati alla fucilazione. Si fece fucilare al posto loro. Lo stesso fecero i carabinieri Marandola, Sbarretti e La Rocca che sono soprannominati i marchi di Fiesole in un episodio simile. Lo stesso fecero i carabinieri impegnati nella difesa di Cefalonia che furono sterminati dall'attacco tedesco per non voler arrendersi. Un episodio significativo fu quello che si verificò il 7 ottobre 2020 quando alle 9.30 del mattino ci fu un rastrellamento non previsto a sorpresa che costrinse alla resa i carabinieri di tutte le caserme di Roma una operazione decisa da Herbert Kapler per neutralizzare la loro presenza e allontanarli da Roma deportandone da 2000 a 2500 nei campi di concentramento per avere le mani libere all'operazione che avrebbe fatto subito dopo il 16 ottobre quando ordinò il rastrellamento e la deportazione di 1259 ebrei del ghetto di Roma di quei 1259 tornarono soltanto in 16. I carabinieri anche successivamente continuarono ad essere deportati arrivarono al numero di 5.000 deportati e di essi 620 furono i caduti nei lager. Cosa dobbiamo quindi porci come obiettivo quando raccontiamo questi episodi quando raccontiamo anche i raggi di luce che dimostrano che era possibile non arrivare a certi atti estremi dobbiamo intanto imparare a distinguere ogni comportamento umano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo che lo condizionano. A ricordarcelo è un ex internato che è tornato vivo ma è stato sempre perseguitato dagli incubi dagli incubi dei ricordi dei tragici mesi passati nel campo di sterminio fino al punto di suicidarsi e che ci ha lasciato comunque una serie di stupende testimonianze. Tra esse recitare un suo avvertimento preciso quello che è accaduto può di nuovo accadere e accadrà se non manteniamo chiara e chiarificatrice la memoria del passato e vigile la coscienza critica sul presente. Il razzismo, concluse questo ragionamento così, è ancora una malattia diffusa. Infatti, se noi guardiamo a ciò che è avvenuto anche dopo il 1945, la tragica lezione della Shoah nonostante tante dichiarazioni ufficiali non è bastata. Sono diversi i nuovi razzismi che si sono affacciati nei vari continenti in tutto il globo terrestre. La storia recente ci ha mostrato che il pericolo di altri genocidi non è affatto scongiurato. Abbiamo avuto esempi in tutti i continenti, abbiamo avuto un esempio vicino a noi con l'invenzione di una nuova ignobile formula che è stata fatta durante gli anni della guerra civile scoppiata all'interno dell'ex Jugoslavia. L'hanno chiamata pulizia etnica, non l'hanno chiamata soluzione finale come nel 1938-39, ma il concetto non cambia. Sono tutte forme diverse, apparentate tra di loro, pur lontane dalla perfezione scientifica dello stampo teutonico, ma sono tutte forme di razzismo, di razzismo etnico, di razzismo religioso, di razzismo fondato anche su egoismi economici, tra i ricchi che vogliono difendere la loro ricchezza rispetto al pericolo di dover dare qualcosa in più ai poveri che chiedono anche i mezzi minimi per sopravvivere. Sono tutte forme di razzismo che assume vari aspetti, ma che comunque dimostra che è una malapianta sempre presente nella storia dell'umanità. In pratica è un orientamento culturale e politico fondato sulla centralità di una razza come fondamentale criterio classificatorio. Ne consegue quindi una suddivisione in gerarchie tra le razze che sono razze superiori e le razze considerate inferiori che hanno generato discriminazioni, abusi e genocidi durante tutto il corso della storia umana. L'hanno generata con i fenomeni di schiavitù, di deportazione di 20 milioni africani nel nuovo continente americano, nelle colonizzazioni di altri popoli, nelle occupazioni e conquiste di nuovi territori, nelle separazioni e ghettizzazioni e nella risorgenza nell'Ottocento di forti elementi di razzismo dovuti alla affermazione in vari campi degli ebrei che sono usciti dal ghetto e si sono in un certo senso integrati nella società più ampia partendo però dalle condizioni di vantaggio di essere, anche se una minoranza, una minoranza colta, una minoranza che era stata istruita nella sinagoga dei ghetti che non conosceva l'analfabetismo che invece imperava nell'Ottocento in buona parte delle popolazioni della civile Europa a tal punto da essere nettamente maggioritaria in moltissimi paesi e quindi l'affermazione di tutti questi elementi di origine ebraica che erano usciti dai ghetti generò una specie di vera e propria reazione, una azione di rigetto che alimentò l'antisemitismo, lo portò a casi tragici come quello del capitano Dreyfus in Francia e ebbe l'esplosione nel Novecento con l'applicazione di questi principi con la differenza inventata tra la razza superiore ariana e le razze inferiori tra cui soprattutto quella ebraica. la cronaca di questi giorni è la dimostrazione che non tutto ancora possiamo considerarlo dietro le nostre spalle lo dobbiamo considerare come un presente, un presente che ci minaccia tutti, un presente contro il quale bisogna avere quell'attenzione che ci raccomandava Levi, un presente che si riproduce ancora in vari modi da ogni parte ricordandoci che non possiamo davanti a ciò che succede voltarci dall'altra parte o lavarci le mani come Ponzio Pilato di fronte a scelte fondamentali di andare in soccorso di chi ha bisogno invece di voltargli le spalle e far finta di nulla. la testimonianza del pastore evangelico deportato a Dachau è da questo punto di vista fortemente significativa e scrisse prima vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo poi vennero per i comunisti e giustamente dice lui io non dissi nulla perché non ero comunista poi vennero per i sindacalisti e ancora una volta io non dissi nulla non reagì, non cercai di difendere coloro che erano stati colpiti perché non ero sindacalista poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa e questo avviene sempre quando ci si gira dall'altra parte quando si fa finta di non vedere il male che avanza e questo male che avanza è sempre lo stesso è quello che ci perseguita da millenni è quello che è basato sul dato delle razze superiori e inferiori cui bisogna dare la risposta giusta facendo una serie di considerazioni con cui concludo considerazioni che partono da una frase pronunciata da uno scienziato di origine ebraica che dovette scappare dal suo paese e rifugiarsi negli Stati Uniti uno scienziato che si chiamava Albert Einstein in maniera molto semplice come era abituato a fare lui pronunciò una frase che è sempre valida sempre da tenere presente e che io ho adottato addirittura nel mio profilo Facebook Einstein disse io appartengo a una sola razza quella umana e si riferiva alle origini antiche di tutti noi di tutti noi con tutti i colori diversi di pelle con tutti gli aspetti diciamo esteriori che ci differenziano oltre il colore si riferiva a quelli che hanno fisici che sono chiaramente segnati dalle condizioni climatiche e ambientali degli altipiani dell'Etiopia e del Kenya che vingono in tutte le gare di lungo percorso in giro per il mondo delle Olimpiadi a tutta una serie di altri eventi perché costretti dalla natura del territorio in cui vivono da millenni a fare i conti con una realtà molto difficile in cui sono costretti a camminare a correre molto per poter sopravvivere è qui il punto è qui l'elemento centrale di tutta la coscienza collettiva che deve partire da questa annotazione della razza unica quella umana una razza che discende tutta dall'uomo sapiens che è partito dal cuore della foresta dell'Africa centrale si è diffuso con un processo migratorio che ha sempre caratterizzato la storia umana prima nel continente africano poi nel Medio Oriente poi attraverso il Mediterraneo nell'Europa poi verso l'Asia e l'Oceania infine alcuni gruppi di nomadi durante il periodo della glaciazione dello stretto di Bering sono passati in maniera abbastanza numerosa nel continente americano e lo hanno mano a mano popolato fino alla terra del fuoco assumendo chiaramente caratteristiche differenti colori differenti aspetti esteriori differenti stature differenti strettamente legate a quello che dicevo prima al processo di ambientamento ai climi diversi e alle alimentazioni differenti questo è stato l'elemento che ha caratterizzato l'homo sapiens nella sua diffusione e che dobbiamo sempre ricordare quando qualcuno cerca di dimostrarci bizzarre teorie sul fatto che ci sono razze superiori e razze inferiori la razza è una sola che è composta di tante varianti le varianti determinate dalle differenti aree e condizioni del globo terrestre dalle differenti culture dalle differenti storie certo che queste sono differenze queste sono le cosiddette identità differenti tra un popolo e un altro tra una zona e un'altra tra un territorio e un altro ma mai devono essere considerati elementi che fanno parte di quella abberrante idea della razza superiore che può fare quello che vuole anche sterminare la razza inferiore questa è la lezione che ci viene dalla Shoah questo rende la memoria della Shoah un elemento di grande attualità con cui quotidianamente dobbiamo fare i conti grazie e arrivederci